Mi ha perduto il mio caro Ah poi mi dovete dire perché La macchina è diventata verde Che non l'ho capito Mi sembra dopo l'aggiornamento Questo è nero puro Però è diventato perlescente verde Non si sa il perché Allora vi faccio attenzione che c'è un giovi selvatico Oh aspettate Sì 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 è terzo Allora intanto qua ci saltano proprio vicini Vai sui passa Vai tranquillo No non posso andare? Sì Allora eccole qua guarda giovi Colosairis bianca Allora qua che bisogna fare un bel saltino Allora scendiamo giù Oh mannaggia America Si è impuntata la macchina qua Oh mio dio che curva qui Allora dobbiamo citare Facendo un po' dei car boosting Allora Occhio sui Occhio sui Sta attento Ok possiamo andare Via 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 Guarda giovi come vuole superare Però gamer si chiama Non lo so Allora vai gira 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 Facciamo un po' di car boosting E scendiamo giù Ok qualcuno si è trollato? Un giovi si è trollato No tutti si è trollati raga E siamo primi Allora Vedete che riflesso strano che fa la macchina? Verde Però è carino che ne dite? Io pensavo che era colpa mia Perché il registro con il gatto Ha aumentato la saturazione Invece no È uguale O con colori troppo accesi O con colori normali Cioè quelli scuri del gioco Sempre uguali Non si sa il perché Allora Proseguiamo Proseguiamo Non la sapevo questa cosa sinceramente Non credevo Che ci fossero gli incroci Cioè si vede che è tutto incroci Però non me l'aspettavo Allora Andiamo 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 Sono rimasto trollato raga Che devo fa? Niente Allora Ha bisogno girare per di qua Non si capisce tanto a volte Dove bisogna andare Però vedete Le stiamo recuperando piano piano Olle Mo ci spariamo pure qualche trick Oh mio dio Gli stavo a terra in testa Allora Come facciamo a superarlo? Sui 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 Ok grazie mille Grazie Allora Adesso raga ci spariamo Un bel flip qua Cerchiamo di atterrare bene Aspettate Ci rigiriamo pure con la macchina Ok Andiamo 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 C'è un guy killer qua davanti eh Lo dobbiamo recuperare Assolutamente Allora dove scappa? Martalo Come citta Cittone raga Lo dovrebbero squalificare Ok È rimasto trollato Allora Andiamo 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 Bella sta gara Non c'è niente di che eh Perché alla fine sono tutti pezzi GP Intrecciati Però È divertente Pensate in full lobby però Non entrava tanta gente Poi ho visto che era massimo Per sei giocatori Se non mi sbaglio Sedici scusate Con trenta giocatori Gli incroci qua Sono proprio pericolosi eh Allora Andiamo Sbaglio qualcuno Mi è stato altro là Non lo so Comunque è cambiato il giro È cambiato il giro raga Allora Andiamo 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 Dove devo andare qua? Ok Mi sa che è totalmente diverso da prima Credo proprio di sì No adesso dobbiamo salire qua Da quella parte Non c'eravamo passati prima Mi sembra proprio di no Guarda me la rischio Oh Mio Dio Semma a terli pure bene Oh Bellissimo Questo trick Allora Andiamo 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 Qua Qua non ci siamo passati Proprio No Ok Bella sta cara Giuro che è fantastica Però stanno qua dietro eh Dobbiamo fare molta attenzione Eccoli là Chi è? Pro gamer e guy killer Peccato che si è trollato Jovi Allora Vabbè io pure sono rimasto un po' trollato Però diciamo che poi mi sono salvato Ora sono rimasto trollato Aspettate che rimangono trollati tutti eh Guardateli Tutti e due in acqua Allora Questa parte era proprio troll eh Non potevi fare niente Cioè non si capiva E qua Mi preoccupa adesso il circuito eh Ah ok Ok niente No 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 Ok va benissimo Allora proseguiamo 5 minuti di gara per adesso Ne ho scaricato anche un'altra Tutta strana Che è A cerchio Wallride E credo che la metto gta Non lo so Non lo so Stava a fare il botto Regà Stava a guardare Quello dietro di me Ok Qua facciamo Un wallride Facciamo No 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 Mi frega Nella prima posizione Mi hanno fregata No no Ancora nostra Chi è? Giuseppe Gianni Se sta qua Era lui? Non lo so Comunque sia Perdiamoci questa bella Prima posizione Prossima gara Ok Nuova gara Guardate che spettacolo Allora Andiamo 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 Ci dobbiamo sbrigare Adesso entrano Quando ho invitato Sono stato 3 ore No Adesso sono entrati Mannaggia Allora andiamo 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 Ho messo gta Io non amo molto Le gare gta Ve lo dico Allora Questi hanno i missili Vai su Oh e spara Ho preso i missili Vedete raga Mannaggia ste gare gta Ok Ah no Avevo sparato però eh Aspettate Pam Due Ok Belle Belle Regi gta Regà Non sono così male Allora Non regà Mi staccate pure la cuffietta Quindi è un casino Qua era meglio se prendevo il turbo Sinceramente Però non voglio sprecare i missili Mamma mia Quasi preso Qua prendiamo il turbo Qua Prendiamo i missili Così appena si avvicina Ancora non possiamo Che deve stare bello vicino Allora Però seguiamo Voglio uccidere qualcun altro Eccolo Adesso è il momento giusto No Aspettate Che c'ho il turbo Qualcos'altro Aspettate che rallento Così Così lo becchiamo Vai vai No 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 Regà Aspettate Lo devo recuperare Allora Ah no era finita Mannaggia a me E vabbè Non lo sapevo No regà Praticamente Gli ho regalato La prima posizione Così a caso La riavviamo subito Ok Eccoci qua Guardate un po' Allora Andiamo 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 Voglio partire Ho preso la cucio drag Perché mi sembra Molto buona Per questa cara Allora Dai Andiamo 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 Veloci Ok Io prenderei subito Il missile qua Ok No no Stanno Stanno troppo lontani Per lanciargli il missile Perché sto così avanti Io Non lo so Però va bene così Vabbè Intanto regà Mi sa che un missile Lo dobbiamo lanciare lo stesso Non lo so Aspettiamo Aspettiamo Ok Facciamo così Così prendo il turbo Ok E ci prendiamo tutti i turbi Qua Tutti i turbo Scusate Allora Vai 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 Che adesso sono due giri Però non so com'è Abbiamo preso un bel distacco Non lo so Eh Mo sicuramente verrà qualche doppiato Anche perché Si cominciano a vedere Allora Turbo 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 Ho leggermente sbagliato Non era il turbo Regà Allora Oddio Ha preso il check Sì Però siamo ancora in prima posizione Va bene così Allora Io pure volevo far saltare in aria qualcuno Però eh Allora Proseguiamo Proseguiamo Sono stato io? Credo di sì eh Ok Ultimo giro Ultimo giro Io prenderei un verrazzo qua No ma ancora non c'è nessuno Però c'è qualcuno Hai capito orsuino Allora devo fuggire Allora Io volevo lanciargli pure un razzo È solo che Era impossibile Allora Però siamo sempre primi Regà va bene Andiamo 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 No Volevo uccidere qualcuno Che peccato eh Che peccato Ancora che mi sbaglio qua Oh mio dio Era una mina quella? È vero Le mine Però non credo che fanno in tempo a Ad esplodere Boh Sui sui Vieni qua Vieni qua Che uno lo uccidiamo Morto? No Ancora no No niente raga C'ho i missili Andiamo 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 Vorrei fare qualcosa Per trollare qualcuno Però non lo so Il traguardo dove sta? Ancora manca un po' per il traguardo eh C'è qualcuno qua Eccolo con la sciodaro al suino Che è il secondo? Non lo so No 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 è finita È finita Comunque sia Se vi sono piaciute queste care stante Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitevi su Instagram Saluti questi suini Bella Grazie a tutti Grazie a tutti.